Si avvia a soluzione il servizio di mensa scolastica a Chieti con la procedura negoziata. È stato infatti individuato il soggetto gestore. Lunedì e martedì prossimi saranno effettuati dei sopralluoghi tecnici per dare inizio al servizio di infezione scolastica intorno al 18 di febbraio. Il sindaco Diego Ferrara, il presidente Febo e l'assessore Giammarino assicurano che gli uffici stanno ultimando verifiche imposte dall'Iter per il pronto avvio del servizio stesso. Capisco, condivido il disappunto dei cittadini, della popolazione e soprattutto dei genitori che hanno i loro figli nelle scuole. Sono stati per diversi mesi senza l'istituzione della mensa scolastica ma le amministrazioni purtroppo hanno dei tempi rigidi, burocratici da rispettare. Noi abbiamo fatto a dicembre, abbiamo aperto una fase di manifestazione di interesse, abbiamo indetto una gara, c'è stata una società e c'è una società che si è aggiudicata appunto questa gara per la somministrazione dei pasti durante la mensa scolastica. Adesso, nei giorni immediatamente successivi, ci saranno delle procedure da parte della società stessa per il riassorbimento del personale utile per la mensa stessa e l'organizzazione oggettiva, l'organizzazione diciamo pratica per iniziare il servizio che quindi a brevissimo inizierà. La proposta presentata è stato detto infine a ottime premesse, cibi biologici, sostenibilità, menu a tema per raggiungere la qualità e il chilometro zero, la sensibilizzazione familiare per un diverso e più sano regime alimentare, un progetto che condivideremo con tutti i soggetti portatori di interesse per stringere ulteriormente i tempi della ripartenza, ha sottolineato infine il sindaco Ferrara.